come in un sogno vedo elisa che corre in qua e in là la vedo ricevere telegrammi e aprirli e leggermeli vedo le sue labbra che si muovono vedo i suoi gesti scomposti odo parole e parole senza significato per la mia mente che divaga io penso alla morte contioca so che una gioia statica mi illumina la fronte so che somiglio alle belle statue funerarie di giovani donne che spiccano il volo con il loro bimbo in braccio ora vedo elisa che piange che chiude i bauli che si muove a scatti e mi parla con occhi stralunati e voci aspre e poi siamo in carrozza no siamo in treno e siamo a vienna e due uomini che non conosco mi aiutano a scendere dal treno e mi tengono ognuno per un braccio e mi conducono a un hotel ma ma poi ma vedo che non è non è un hotel è una sala vasta nuda con delle panche intorno al muro e degli uomini in uniforme che che non mi salutano che non si inchinano a me che mi guardano appena e parlano tedesco fra loro aprono la mia borsetta e ne traggono dei profumi dei gioielli delle sigarette io ne accendo una e il suo profumo mi riporta indietro alle cene d'un tempo con vasili e bosevski alla musica zigana allo scintillio di luci di fiori di sorrisi come tutto ciò è lontano mi fanno uscire da quella sala sempre con due uomini a lato ed io scorgo in fondo a lungo corridoio un gruppo di persone che si avvicina nel centro del gruppo ammanettato col cappello indietro e di traverso come se gli fosse stato messo sulla testa da qualcun altro cammina prilukov mi vede un'onda di pallore quasi verdastro gli percorre il viso fa un gesto con la bocca serrando le labbra e scuote la testa vuole farmi intendere qualcosa subito gli uomini accanto a me mi stringono le braccia mi fanno voltare rapidamente per un altro corridoio odo una parola una parola russa gridata dietro a me dalla voce di prilukov molci taci gli uomini mi spingono rudemente dentro una cella vuota e scura seggo su una panchina fissata in un canto e appoggio il capo al muro non sono né triste né spaventata né infelice non sono che stanca infinitamente stanca e subito ma dormento di un sonno profondo e senza sogni da che ero bambina o tradano ricordo di aver dormito così il perfetto oblio versato sulla illimitata stanchezza qualcuno apre la mia porta senza domandare permesso mi prende il braccio e mi riconduce nella vasta sala nuda e lì vedo elisa tra due uomini che piange desolatamente la vedo fare quelle smorfie quelle comiche smorfie che accompagnano sempre il suo pianto come una musica allegra accompagna un funerale di bambino ripenso non so perché a vassili a bosewski a una festa all'ambasciata austriaca in pietroburgo alla piccola tania che amava gli andari via a tioca quando aveva i suoi giorni di no poi ricordo che tutto ciò è lontano nel mio pensiero trascorro rapida chiudendo gli occhi l'abisso di colpe di dolore dei recenti anni ed esco fuori nella luce della mia ultima della mia nuovissima gioia il pensiero del carrello che si è fermato di kamarovski che guarisce il pensiero di lasciare la vita con tioca il giorno in cui dio ci chiamerà e mentre così pensando sorrido uno di quegli uomini mi scuote villanamente il braccio un altro seduto a un tavolo mi legge qualche cosa ad alta voce io distingo le parole in arresto rea di complicità omicidio del conte kamarovski ma e mi cominciano a battere i denti il conte kamarovski guarisce e l'uomo dice il conte kamarovski è morto io rido forte sono sulle montagne russe il carrello che io credevo si fosse fermato rulla scivola corre precipita turbina piomba 44 l'infermiera delle carceri della giudecca mi siede accanto e mentre mi fascia la fronte di bende fredde narra a bassa voce la storia dolorosa e terribile io l'ascolto come un sogno che si ascolta in sogno è una storia terribile dolorosa quando gli vide entrare il giovane gli mosse incontro per abbracciarlo poiché lo amava come un fratello e il giovane andò a lui e gli esplose cinque colpi di rivoltella nel ventre cinque colpi di rivoltella nel ventre sì egli allora cadde a terra ma ancora stese le braccia al giovane disse caro perché mi hai fatto questo e disse ancora sei pure che ho un bambino senza madre e che cosa ti ho fatto io di male allora il giovane pianse gli chiese perdono e quando ne ebbe avuto il perdono fuggì e quando ne ebbe avuto il perdono fuggì allora il ferito venne portato all'ospedale e i dettori i dottori volevano che dormisse mentre gli ricucivano gli otto fuori che aveva negli intestini ma egli disse potete farlo mentre sono sveglio avrò tempo di dormire poi e i medici gli cucirono otto volte gli intestini dove erano forati ed egli allora domandò di voi domandò di me e il terzo giorno stette meglio e sedete nel suo letto e volle leggere i giornali che raccontavano del suo ferimento e parlò e sorrise con tutti e ancora e sempre domandò di voi e ancora e sempre domandò di me e poi la fatalità volle che al suo capezzale si avvicinasse un vecchio e celebre chirurgo che in quel momento veniva colpito da improvvisa demenza e nessuno lo sapeva con la voce autorevole di chi avvezzo a comandare e a salvare ordinò che si togliessero i punti di sutura all'intestino gli assistenti esitarono stupiti ma il celebre chirurgo ripete il nefasto ordine e allora gli assistenti obbedirono e riaprirono gli otto fuori dell'intestino che erano già presso a rimarginarsi e poi la fatalità volle ah la fatalità io mi rizzai a sedere ah sì la fatalità la fatalità quella megera io la vedevo accovacciata accanto a quel letto divertendosi a sferzare con la follia come un bimbo frusta una trottola il cervello di quel vecchio demente guidandogli le mani a frugare e lacerare quelle ferite già presso a rimarginarsi la fatalità volle che il vecchio chirurgo ordinasse la lavatura dello stomaco gli assistenti si guardarono stupefatti smarriti tentarono di protestare ma il vecchio avvezzò come andare a salvare urlò silenzio ubbidite e allora e allora a santa vergine pietà di noi allora si cominciò la lavatura dello stomaco e tra gorgoglie e urti di vomito quegli intestini scuciti e lacerati ah non fate ripetere gli infermieri gli infermieri che cosa facevano che cosa facevano trattenevano con le ruvide mani gli intestini che sfuggivano da tutte le parti e finalmente egli venne ricoricato sui guanciali la strage era compiuta la strage era compiuta e allora per l'ultima volta domandò di voi per l'ultima volta domandò di me ve ne prego suora tornatemi a dire tornatemi a dire la storia dolorosa e terribile perché come una spada rovente mi entri nella memoria e l'infermiera torna a narrare la storia terribile e dolorosa io l'ascolto come un sogno che si ascolta in sogno quando egli vide entrare il giovane gli mosse incontro per abbracciarlo poiché lo amava come un fratello lo amava come un fratello 45 poter sognar che tutto questo è un sogno maria tarnovskaya tace il suo racconto è finito rompe il silenzio il suono di una campana e subito nella vicina cappella del penitenziario si leva un coro di voce bianca le detenute cantano kiri eleison christ eleison è tardi dice la suora alzandosi elevando lo sguardo verso la stretta finestra sbarrata di fatti il tramonto lancia già attraverso il cielo le sue ghirlande di rose incandescenti subito docilmente la prigioniera si alza maria tarnovskaya ed io ci guardiamo negli occhi per l'ultima volta due donne due anime due destini che un abisso separa che un mondo divide o non è forse un solo filo della ragnatela del caso che ci rende dissimili mater purissima mater inviolata cantano le recluse addio maria tarnovskaya e le stendo la mano e la pone la sua mano trasparente leggera nella mia addio la sua voce è un soffio un subitaneo immenso struggimento assale l'animo mio o poterla salvare redimere riabilitare poterla riportare alla vita come un nuotatore trai alla riva un naufrago e metterla al sicuro ridarle nelle mani il forte fiore dell'innocenza e porla così al principio del suo passato candida e rinovellata questo desiderio appassionato e vano mi chiude la gola in un singhiozzo virgo fidelis causa nostra letizie cantano le prigioniere cerco nel mio cuore la parola da dio la parola ultima di conforto e di speranza davanti a quei grandi occhi tragici che implorano conforto ogni frase meschina ogni comune saluto fugge dalle mie labbra tremanti forse per qualche cosa che la mi legge negli occhi maria tarnovskaya impallidendo si avvicina a me trepida umile incerta mi stende le braccia così la lasciai il tramonto incendiava di fiammeggianti fulgori l'occidente quando vidi per l'ultima volta quella fronte mite quella pallida bocca che non ride quei grandi occhi che non dormono attraverso le sbarre della isigua cella il sole morente pareva gettare una manata di topazzi da metiste e di rubini su colei che tanto aveva amato i gioielli e cingeva di splendori la bionda testa umiliata rosa mistica stella matutina 46 i verdi campi della puglia fuggono davanti al finestrino il treno corre verso setentrione frescheggia la lunga giornata primaverile sentendo vicina l'ora del riposo scioglie i lunghi capelli di nuvola e scendendo verso l'occaso se li trai dietro per tutto il cielo sopra gli appennini sorge quasi trasparente la luna barchetta d'ambra navigante in un mare d'opale come un frammento di sogno mi torna nella memoria la poesia di cui non ho mai udito di cui non udrò mai che il primo verso la madonna coi piedi sulla luna chissà come continua chissà come termina quella puerile dolce canzone il treno corre corre nel crepuscolo ed ecco sorgere nella mia memoria le parole di un poema più antico ora maria di magdala stava fuori presso il sepolcro e piangeva e una voce disse donna perché piangi donna perché piangi certo quelle parole non si rivolgevano soltanto alla bionda danzatrice di israele la perdonata di magdala non le tende ella forse attraverso i secoli come un fascio di fiori primaverili a questa nuova peccatrice penitente forse dalle alture del giardino di gerusalemme colui che pronunciò quelle parole vedeva al di là della fragile lagrimatrice ai suoi piedi la distesa delle lontane vallate dell'avvenire vedeva la vinta di tutti i tempi la donna eterna sconsolata china sovra la culla o avvinghiata un cuore infedele abbattuta sopra una tomba o prostrata sotto una colpa donna perché piangi mite e grave la domanda eterna si rivolge ancora a tutte le donne e nell'austero rimprovero sfolgora una promessa fine post fazione facendo ricerche su quello che fu definito l'affare russo sia nei siti internet moderni sia nelle cronache del tempo maria tarnovskaya è definita delinquente criminale avventuriera ad alto bordo insaziabile vorace contessa russa ribattezzata circe e via dicendo l'avvocato che chiese per lei il massimo della pena attribuendo le tutta la responsabilità dell'omicidio e dando invece delle attenuanti all'esecutore disse in tribunale accuso lei maria tarnovskaya perché ha ucciso non in un impeto di passione o di esaltazione sentimentale ma solo per cupidigia di danaro non l'odio non l'amore non la gelosia non la vendetta che sono pur sempre umane passioni hanno travolto questa donna assieme ai suoi amanti no unicamente la bramosia dell'oro maria tarnovskaya lei ha rubato per lussuria per libidine di gioielli di profumi costosi di biancheria rara e preziosa di vesti sfarzose per questo deve essere condannata al massimo della pena assieme ai suoi complici ai quali vanno riconosciute invece le dovute attenuanti nessuno tra coloro che ne hanno raccontato la storia ora come allora ha avuto un moto di pietà o si è chiesto perché maria abbia agito in quel modo nessuno tranne anni vivanti la musa di carducci ricordata dalla storia ufficiale solo per aver ispirato un amore tardivo al vecchio poeta anziché per le sue eccezionali doti di reporter e scrittrice anni è riuscita con la sua penna e la sua empatia a portarci direttamente nel cuore del cuore di maria la cui unica colpa è stata probabilmente quella di non aver saputo porsi al baratro che il marito prima e priluco fettuti gli altri poi le hanno scavato sotto i piedi anni una donna la cui opera è stata sottovalutata forse volutamente poiché le donne che si aiutano tra loro il patriarcato le punisce con l'oblio come scriveva virginia wolf in una stanza tutta per sé chloe vuole bene ad olivia come sarebbe stato diverso il mondo se questa frase avesse potuto avere più eco anni dicevamo invece l'ha chiaramente riscattata e noi ci uniamo a lei nell'indicare come unico colpevole il mondo patriarcale che consente agli uomini di usare tale violenza legittimandola ancora oggi ma grazie a una difesa che tenne conto della sua salute mentale maria scontò nel carcere di trani solamente cinque degli otto anni di reclusione cui era stata condannata per infermità mentale aveva 33 anni all'epoca dell'omicidio ne aveva 38 quando fu rilasciata maria emigrò in america dove lasciò il corpo circa 30 anni dopo a 72 anni i suoi resti furono riportati in ucraina e inumati nella tomba di famiglia ma quando anni la salutò dopo l'intervista questo ancora non lo sapeva il romanzo circe usci infatti nel 1912 mentre maria era ancora in carcere a trani grazie a tutti